L'Affini è l'associazione fotografi naturalisti italiani che da più di 30 anni porta avanti un messaggio d'amore per il pagimone naturalistico. Per noi soci affini l'etica del fotografo è un valore imprescindibile. I fotografi affini attraverso la bellezza delle immagini cercano di valorizzare il pagimone naturalistico senza trascurare l'aspetto conservazionistico. L'associazione ogni anno organizza un contest di fotografia naturalistica internazionale chiamato Asferico. Le foto vincitrici per il concorso del 2021 sono esposte in questi giorni presso l'aeroporto internazionale di Palermo. Ringraziamo l'associazione fotografi naturalisti di aver dato questa possibilità a tutti i passeggeri di apprezzare la natura e l'arte nel nostro aeroporto. Attraverso queste foto esposte fino al giorno 23 dicembre. L'aeroporto non è soltanto un posto dove si arriva e si parte, ma è anche un posto dove apprezzare la natura e l'arte.